Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, diverse le notizie in primo piano A partire dal Duomo vedremo le immagini in anteprima interne al Cattedrale che riapre sabato prossimo, il mercoledì, la visita per la stampa Vedremo a breve le immagini ma parleremo anche di cronaca e con un fermo per un uomo indiziato per aver rubato i mitra all'interno dell'auto dei carabinieri Circa un mese fa nell'argentano ma in questa edizione parleremo anche di politica e di sport, non solo di spalle Ma apriamo appunto con la Cattedrale che è chiusa da 5 anni per lavoro post-sisma C'è quindi grande attesa per sabato 23 marzo quando a partire dalle ore 17.15 ci sarà il ritrovo nel cortile del palazzo Arcivescovile Poi alle 17.30 la processione delle palme e alle 18 in Cattedrale la Santa Messa celebrata da Monsignor Giancarlo Perego Arcivescovo di Ferrara e Comacchio Allora vediamo in anteprima le immagini della Cattedrale che da sabato sarà fruibile a cittadini e turisti 23 marzo apertura della Cattedrale è un gioiello, uno scrigno, l'abbiamo vista in anteprima Don Zanella però lei ha scelto un punto specifico La Madonna delle Grazie perché la Diocesi di Ferrara ha come sua patrona la Madonna delle Grazie La città di Ferrara è proprio perché è un evento diocesano e cittadino e non solo È un evento per tutti di poter ritornare a riappropriarsi di questo luogo di culto Vogliamo da qui, dalla Madonna delle Grazie, riguardare tutto quello che è stato fatto in questo tempo Noi entrando in Cattedrale avremo modo di visionare ancora alcuni lavori che devono essere fatti sui pilastri minori Mentre vedremo i colori dei nuovi pilastri, le scoperte dei tesori della Cattedrale che sono i capitelli Vedremo la bellezza di un recupero delle sculture del Baroncelli nella tomba di Monsignor Bovelli Vedremo e ci riapproprieremo passo passo di quello che è l'edificio più amato da noi ferraresi e non solo La rete resta ancora per sicurezza? Sì, le reti restano per sicurezza perché fino a quando non viene indagato un danno che è stato supposto come sia stato quello del sisma Non possiamo toglierle e quindi rimarranno ma ormai l'occhio ci si è fatta l'abitudine e quindi non si vede la rete ma si guarda la bellezza dell'insieme Siamo veramente contenti dopo tanto lavoro e anche tanta fatica di ritrovare la nostra cattedrale così luminosa Così anche per certi aspetti inedita con la presenza dei capitelli, con la presenza di tutto sistemato bene Ecco quindi aspettiamo che arrivino veramente i ferraresi che da cinque anni attendono questo momento Ma vogliamo anche che sia patrimonio di tutti, anche di chi arriva in città, di questi prossimi mesi La cattedrale apre per rimanere aperta, questa è la cosa fondamentale Il 23 marzo alle 17.30 ci sarà, partirà la processione delle palme con l'arcivescovo dal palazzo arcivescovile E facendo corso martiri entrerà qui in cattedrale e inizierà la celebrazione E da quel momento lì la cattedrale sarà veramente di tutti Ricordiamo che c'è ancora comunque una navata che è ovviamente quella sinistra Che però piano piano proseguirà quei lavori Sì, i lavori della navata saranno abbastanza veloci, ecco non dovremo aspettare anni Dovremo soltanto aspettare mesi Quindi speriamo veramente che si possa restituire entro l'anno tutta la cattedrale ai ferraresi Nel frattempo però è possibile ancora vedere i pannelli della mostra che avevamo preparato per la mostra di cantiere E che ancora aiutano a capire tutto il lavoro che è stato fatto e che ovviamente in questo momento non è più visibile Cioè la bellezza del lavoro fatto sta proprio nel non vedere più niente Cioè sembra quasi che non si sia fatto nulla ma questa è la qualità del lavoro Si è fatto tutto quello che serviva per renderla stabile e renderla più bella E in maniera tale che però ci venga restituita così come la ricordiamo Questo è il senso dell'operazione Cronaca adesso aveva destato scalpore ma anche preoccupazione La vicenda delle armi rubate dall'auto dei carabinieri a San Nicolò quasi un mese fa Ora ci sono sviluppi importanti È in stato di fermo un 65enne residente nell'argentano Indiziato dagli investigatori di aver preso parte al furto di due mitragliatrici 180 proiettili e due bastoni tonfa da un'auto dei carabinieri Intervenuti la sera del 26 febbraio scorso a San Nicolò per sedare una lite familiare Martedì nel tardo pomeriggio i carabinieri diretti dalla procura hanno eseguito il fermo E contestato i reati come il furto pluriaggravato e detenzione di armi e munizioni da guerra Sono tuttora in corso accertamenti sul materiale non ancora rinvenuto La mattina successiva al furto venne trovata a parte della refurtiva in un sacchetto abbandonato In un canale nelle campagne limitrofe Alle ricerche hanno poi partecipato circa 800 militari di Ferrara e 150 Tra vigili del fuoco, protezione civile e associazione nazionale carabinieri Impiegati droni e metal detector Perlustrati 172 tra casolari e cappanoni abbandonati Dragati più di 20 corsi d'acqua in un'area di circa 22 km quadrati Oltre 39 le perquisizioni in tutta la provincia e in particolare nell'argentano Poi il cerchio si è stretto attorno al fermato Il quale ha precedenti con la giustizia e ora si trova nella casa circondariale di Ferrara E ora parliamo del granchio blu Era attesa da tempo, alla fine è arrivata dal governo La moratoria dei mutui per 24 mesi per le aziende Colpite dal fenomeno, ma non è l'unica novità Sentiamo Per le imprese del comparto pesca messe in crisi dal proliferare del granchio blu Arriva la moratoria dei mutui per 24 mesi Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollovrigida Ha detto di aver firmato due decreti invocati da mesi da imprese del comparto E dalle istituzioni locali Prevista quindi la proroga fino a 24 mesi delle rate dei mutui Ma anche l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri E per i lavoratori dipendenti Oltre all'accesso a finanziamenti agevolati Questi contenuti dei decreti, secondo Lollovrigida Previsti interventi per cominciare a riparare i danni Grazie all'equiparazione tra pescatori e agricoltori Che permette un risultato storico Ha commentato il ministro Soddisfatto anche il senatore ferrarese di Fratelli d'Italia Alberto Balboni Che ha partecipato a diversi incontri a Goro Bene la moratoria sui mutui e gli sgravi fiscali Un provvedimento in linea con quanto da noi richiesto la scorsa estate Queste le parole a caldo del presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini E dell'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi Soddisfatta anche col diretto impresa pesca Secondo cui ora gli enti preposti Ovvero IMSI, INAIL e Regioni Devono trasformare in aiuti pratici Quanto indicato nei decreti Se questo non avverrà in tempi rapidissimi Concludono da Coldiretti Le imprese rischieranno di chiudere Aggiungono dall'associazione Politica adesso Torniamo a parlare di elezioni a Ferrara Perché mercoledì Mario Zamorani e Paolo Niccolò Giubelli Di Più Europa Hanno manifestato il loro dissenso Nei confronti del loro partito I due che sostengono la candidata sindaca Anna Zonari Non potranno utilizzare il simbolo di Più Europa Che sosterrà invece il candidato Fabio Anselmo Stessa sorte quindi di Sinistra Italiana e dei Verdi Che a livello locale sostengono Zonari Ma dal nazionale la scelta è ricaduta su Anselmo Allora sentiamo e vediamo La particolare intervista e protesta di Zamorani Mario Zamorani più Europa In una conferenza stampa Arrabbiato con chi? Con la politica? Con la città di Ferrara? Con che cosa? Noi pannelliani siamo abituati a essere messi al bando Quindi a essere banditi Messe al bando banditi Hanno voluto fare di noi dei banditi Avranno dei banditi Qual è il problema? Tutto è nato sull'asse Ferrara, Roma Ferrara È partito dall'epicentro, dal centro-sinistra di Ferrara Dei vertici del centro-sinistra di Ferrara Dicendo a Roma Togliete il simbolo a quelli che non sostengono Anselmo L'hanno fatto già con i verdi E con sinistra italiana Adesso lo stanno facendo Siamo in attesa di una risposta Ma ci risulta che così sarà anche con più Europa Indo Montanelli di Pannella diceva Ha un buon odore di bucato Ecco noi romantici della politica Crediamo nella buona politica Con un buon odore di bucato Siamo banditi buoni Sono gli serifi che sono cattivi Come in molti film western Qual è il problema? Voi sostenete Anna Zonari? Noi sosteniamo convintamente Anna Zonari Pulita e con l'odore di bucato anche lei come noi A differenza di gran parte dell'altra politica Di gran parte dell'altra politica Che l'odore di bucato non ce l'ha Allora adesso noi Come facevano in molti film western I banditi buoni Siamo costretti a fuggire in Messico Quindi in pratica che cosa succederà? Adesso abbiamo imparato il messicano Ora nos vamos a buscar otros bandidos Buenos bandidos Como nos otros Banditi buoni come noi Andiamo a cercare Quindi a tutti quelli che Ancora credono nella politica Con un odore di bucato Noi diciamo abbiamo bisogno di voi Tutti insieme Possiamo fare una cosa importante E scriveteci Scriveteci All'email Banditi a fe Chiocciolalibero.it Libero abbiamo scelto Perché ci sembrava Il gestore più adatto alla libertà Cambiamo argomento Farmaci e Bonuso È il titolo dell'iniziativa Che mette in campo Un programma di sette incontri pubblici Sul territorio comunale di Ferrara L'obiettivo del progetto Ideato dall'Avis Patrocinato dall'assessorato Le politiche sociali del comune È quello di informare cittadini E soci donatori Sul ruolo del farmacista E sull'utilizzo Consapevole dei farmaci L'iniziativa è sostenuta Anche dalle aziende sanitarie Dalle farmacie comunali E da quelle private Primo incontro Aperto a tutti Previsto per venerdì 22 marzo Alle ore 21 A Montalbano Nella sede dell'Associazione Di promozione sociale La scuola di via Bologna Sentiamo Perché è importante Comunicare il corretto uso dei farmaci? È importante perché Per raggiungere l'obiettivo terapeutico Che ci si prefigge Con l'utilizzo di un farmaco Bisogna utilizzarli correttamente Correttamente intesa Come la indicazione Per la quale sono stati prescritti E quindi non fare autoprescrizione Utilizzarli con il dosaggio corretto Gli orari corretti di assunzione Evitare la contemporanea assunzione Con alimenti O sostanze da abuso Che ne potrebbero alterare Le proprietà terapeutiche Uso corretto però Non è soltanto inteso Come assunzione corretta È anche la corretta conservazione Quindi Le condizioni di temperatura Temperatura se sono farmaci da frigo Piuttosto che farmaci a temperatura ambiente L'esposizione alla luce solare Controllare sempre la scadenza O per alcune forme farmaceutiche Per esempio i colliri Non possono essere utilizzati Oltre alla data di apertura Di un certo periodo di tempo Quindi corretto uso è Corretta assunzione Corretta conservazione E anche qualora Si dovessero manifestare Degli eventi avversi Che sono abbastanza connaturati Con l'utilizzo dei farmaci Risulta molto importante La segnalazione dell'evento avverso Il comune ha non solo patrocinato Ma ha sostenuto anche economicamente L'iniziativa Il progetto di fatti Rientra addirittura Nella programmazione annuale Di quella che è il piano di zona Perché è questo? Perché la volontà è quella Di dimostrarsi come amministrazione Davvero vicina Oltre che alle associazioni Del terzo settore Anche ai nostri cittadini Quindi saranno sette appuntamenti Che permetteranno Oltre all'amministrazione Anche a chi rappresenta Le farmacie sul territorio Quindi le farmacie ospedali Ma anche le farmacie comunali E quelle private Di poter parlare ai cittadini In modo chiaro Su quello che è l'uso del farmaco E soprattutto sul suo buon uso Tutto questo per dare valore A quello che è il percorso di Avis In un concetto di donazione di sangue E del mantenersi soprattutto In buona salute Tutti possono pensare Perché daremo informazioni importantissime Sull'uso del farmaco E soprattutto il corretto uso del farmaco E il ruolo del farmacista Perché il farmacia è un presidio fondamentale Vero nella nostra città E anche nella nostra provincia Perciò vi aspettiamo Alla fine daremo un omaggio A tutti i presenti Che è quello un portapillole Che si vede C'è anche l'Avis sopra scritto Così vi ricordate anche Quando andate a carica L'iniziativa Avis Di fare donatori Faremo un questionario di gradimento Che sarà quello che dirà Che oltre se è piaciuta la serata E che cosa vorreste fare di più Cosa proporrete voi all'Avis Ma soprattutto all'istituzione E ai farmacisti Che cosa possiamo proporre Evitare il politicamente corretto Senza cadere nella retorica E avendo a cuore sempre l'individuo Questo è il senso della giornata Di sensibilizzazione Formazione dal titolo Se solo avessi le parole In programma venerdì 22 marzo Dalle ore 9 Nella sala della musica di Ferrara Mercoledì mattina In comune Vedete tutte le associazioni presenti È stato appunto presentato Il programma della mattinata E torniamo a parlare Delle giornate Del FAI di primavera Perché si avvicinano E Ferrara fa parte Insieme ad altri comuni Del territorio E dei 52 luoghi Che saranno visitabili In tutta Emilia Romagna Sabato e domenica Prossimi la martedì La presentazione Anche in regione Sentiamo È un appuntamento bellissimo Che si rinnova ogni anno Quest'anno particolarmente ricco Oltre 50 luoghi da visitare Molto differenti tra loro Che abbracciano tutta la regione Da Piacenza al Ferravese Fino a Riminese E soprattutto luoghi Che sono in montagna In pianura In collina Nelle grandi città Nei borghi antichi Insomma Una pluralità di opportunità A partire anche dalla visita A un patrimonio Magari all'interno Meno conosciuto Come quello Delle torri Dove ci troviamo Progettate Negli anni 70 Da Kenzo Tang E dal grande architetto giapponese Che sono diventate Poi il cuore istituzionale In parte Il quartiere anche Economico e fieristico Della città di Bologna E quindi di tutta l'Emilia Romagna Ma più in generale Tantissime opportunità E quindi un grande ringraziamento Al FAI È un evento nazionale Quello che noi definiamo La più grande festa di piazza Che si faccia in Italia Ed è una festa Veramente di piazza Dove 750 luoghi Vengono aperti Quest'anno In 400 comuni Questo per tutta Italia Noi abbiamo 37 comuni E 52 52 luoghi Aperti Dai nostri apprendisti Ciceroni I nostri Ma insomma Sono delle scuole Ovviamente Sono gli studenti Delle scuole superiori Delle scuole Che collaborano Tradizionalmente Con noi E sono praticamente Tutti i luoghi Con gli apprendisti Ciceroni E andiamo Da Appunto Da Da Bobbio A Codigoro Al Taglio della Falcio E quindi Attraversiamo Tutte le tematiche Di interesse Delle Emilia Romagna Ovvero Che l'Emilia Romagna Ci offre Perché è così Dalla pianura L'Appennino I borghi Le chiese I grandi palazzi Le grandi residenze I luoghi I palazzi E i castelli Che sono appena Che risorgono oggi In questi giorni Dalle Come dire Dai colpi Del terremoto Che sono inaugurati In questi giorni Come il palazzo Arcivescovile di Ferrara In un mondo ideale Bisognerebbe Che Le giornate Del FAI Di primavera Di autunno Ci fossero tutti i giorni Cioè che Mi piacerebbe Vedere tutti i giorni Tutti i luoghi aperti Anche quelli più sconosciuti Ma soprattutto Vedere migliaia Migliaia Milioni di persone Godere Della bellezza Della cultura Dell'arte Dell'architettura E poi In Italia Abbiamo di bello Che questi singoli beni Stanno dentro Paesaggi Che sono Moltiplicazione Di tanti singoli beni E quindi Il paesaggio Adesso stesso È un bene Formidabile Quindi Il messaggio Ai cittadini È profittatene Profittatene Perché è un'occasione D'oro Con visite guidate Di esperti Ma anche di ragazzi Che imparano Le cose E si è svolta Mercoledì in comune A Ferrara La conferenza Di presentazione Del torneo europeo Di basket Under 13 In programma Dal 25 al 28 aprile Al Palasport Conferenza A cui era presente Anche il sindaco Di Ferrara Che sentiremo Nelle prossime edizioni In merito A questa iniziativa Importante Che approfondiremo A breve Ma prima E a margine Della conferenza Alan Fabri Ha fatto il punto Insieme ad Alessandro Sovrani Sulla spalla E anche sul futuro Del marchio Non solo da primo cittadino Ma in particolar modo Da tifoso Come ha vissuto Alan Fabri Questa travagliata Stagione della spalla Molto male Molto male Perché Ovviamente Da tifoso Non posso essere Contento Da quello che si sta Realizzando Da sindaco Ho sempre cercato Di mantenere Penso La serietà Di ascoltare un po' Tutti i fronti Che a volte Sono anche Opposti Tra il tifo La presidenza Tutto quello Che lega un po' La società Confido Sul fatto Che La spalla Sta reagendo Nelle ultime Sette Ootto partite E ci sia Una salvezza Che ci porti Poi a riflettere Meglio Anche sull'anno prossimo Per il marchio Cosa si prospetta? Ma lì abbiamo Attraverso una richiesta Molto diretta Che ha fatto La curva ovest Abbiamo incaricato Delle persone Per vedere se effettivamente È una strada Percorribile E cercheremo Di ascoltare Un po' Tutti Trovando ovviamente Una via fattibile Nel caso in cui Si possa andare avanti Sindaco Sindaco Quindi presente Alla conferenza In cui appunto È stato presentato Il torneo esclusivo Con il meglio Del basket europeo Di che si tratta Ce lo spiega Luigi Moretti Presidente Della Palla Canestro Quattro Torri Un torneo importantissimo Unico in Europa Entry level tournament Abbiamo adottato Tutta anche Tutte le comunicazioni Sono in inglese Ovviamente Perché abbiamo coinvolto Un mondo per noi nuovo È un torneo quindi Di ragazzi Che hanno meno Di 13 anni Quindi 13 anni Diciamo Dove ci partecipano Sei squadre Le cui prime squadre Fanno l'Eurolega Una squadra Che fa l'Eurocup È una selezione Giovanile Dei migliori talenti europei Quindi È una cosa Impensabile Non avrei mai pensato Di riuscire A mettere in piedi Le squadre Sono le due italiane L'Olimpia di Milano È la Virtus Bologna Poi abbiamo il Barcellona La Stella Rossa di Belgrado Il Palatina Icons Atene È il Bayern Monaco Queste sono l'Eurolega L'Eurocup È la Reier Di Venezia È la squadra Che fa la selezione Dei giovani talenti È l'Orange Di Bassano Cosa molto importante È che in questa selezione Sono riuscito A inserire In rappresentanza Della città Quindi del movimento Di Ferrara Quattro giovani Che rappresentano Le quattro società Quindi quattro torri Scuola Basket Vis E Argenta Per loro sarà Un'esperienza Memorabile Non so a livello tecnico Cosa potranno dare Però Sarà una cosa stupenda E Quindi Ferrara Sarà rappresentata Proprio sul campo Anche E con questo è tutto Grazie E arrivederci È a lei Cosa potranno addgisco Bagioli B A B A B A B Grazie.